l'altra volta di tutte le ore che si va accendere così i tarli replicano quando replicano? tornano i tarli il 18 novembre al cinema teatro San Demetrio alle 21 i tarli replicano venerdì 18 novembre ora è venuto a San Demetrio perché l'altra volta si va accendere così tutte le ore che si va accendere così, tutte le ore che si va accendere così, tutte le ore che si va accendere i tarli replicano replicano e se la musica è buona ci facciamo buttà ci stringhiamo canzone e tirammo a campare e cammino cammino e chiediamo a trovare la chitarra e o gru